È stato presentato questo progetto di accordo pubblico privato che prevede un iter burocratico e amministrativo ma abbastanza lungo ma che non ha scoraggiato gli abitanti, i commercianti, i residenti e tutta la comunità nel suo complesso. Su questa base ci saranno, da adesso in avanti, tutti i passaggi formali, quindi la presentazione da parte del privato dell'ipotesi di accordo, dopo di che ci sarà quella che è l'accettazione da parte della giunta sulla base di un'istruttoria ma soprattutto poi ci saranno anche i passaggi formali, commissioni, consiglio comunale eccetera. Si arriva ad avere un privato proprietario, un'amministrazione che porta avanti un'ipotesi di accordo pubblico privato e un impegno che renderà entrambe le parti soddisfatte ma soprattutto una comunità che vedrà finalmente un centro del paese riprendere vita.